Dio è nostro padre, egli vuole il nostro bene ed il bene dei nostri cari più di quanto noi lo vogliamo. La rivelazione centrale del cristianesimo infatti è proprio la paternità di Dio che ci ama al punto tale da donare il suo proprio figlio affinché in lui possiamo ritornare al suo disegno benevolo originario di amore. Dio ci istruisce quindi certamente ci richiama ad abbandonare l'errore e il male per camminare con lui in santità e pace. Il padre ci accoglie in Cristo e lo spirito ci fa fare l'esperienza del suo grande amore. Grazie per la visione!